Questa è una camera per uno o più cani dello stesso proprietario, con il lettino, c'è il comodino, la mensola, il porta guinzaglio, c'è il riscaldamento per l'inverno. Ognuno ha il proprio letto e comodino e poi cambio della biancheria, è un grande giardino in cui scorrazzare, insomma una vera e propria hotel a 5 stelle, anzi a 4 zampe. La parola chiave è benessere. Un'innovativa pensione per i cani nelle campagne della Valdichiana Aretina a Montagnano, nata dalla passione per gli animali. Io facevo un altro lavoro, mi sono licenziata in tronco e dissi ho 30 anni, faccio ora quello che voglio fare o non lo farò mai più. E scopo al lavoro ci devi stare 8 ore, se non ti piace è la fine, ho detto faccio quello che mi piace. La passione per gli animali però non è sufficiente, occorre infatti anche tanto studio. Allora iniziate a fare il corso per diventare dog sitter, il corso per diventare educatore, perché qualsiasi cosa ti piaccia, se non hai una conoscenza minima, rimani lì. L'obiettivo di Carlotta è dunque quello di far sentire gli amici a 4 zampe come a casa propria. I cani oggi sono abituati ad avere le comodità, a stare in famiglia, a stare nel letto, a stare nel divano, quindi se si parla di benessere gli devi ridare queste cose. Anche perché il proprietario quando è lontano deve stare tranquillo, non deve pensare che il cane piange, che sta male, che può succedere qualcosa. Tranquillo il proprietario, tranquilli i cani. Dopo l'hotel per cani presto aprirà anche quello per gatti. Mi vorrei ingrandire e specializzare nel settore dei gatti, saranno tutte camere con giardino, blindato anche sopra. Insomma in tempi di vacanze e partenze, ma non solo, una soluzione per gli amici a 4 zampe quando non è possibile portarli con sé. Uno dei motivi purtroppo che fanno impennare in questa stagione abbandoni di cani e gatti. Se uno la vuole la cerca e la soluzione la trova, dipende dalla sensibilità della persona.